musica guardate che bei fiori e con noi c'è il regista argentino Juan Martin Su che vuole fare un brindisi al cinema argentino un brindis per l'Italia per l'Italia, per il cinema argentino per il cinema argentino per la salata che sta nel festival di Toronto in la seczione di Discovery un brindis, salut! Martina, la salata che vuole dire che in Argentina per l'Italia ci sono molti ragazzi che si intersecano molti immigrati si, la historia tiene que ver con... la pelicula tiene que ver con una tesis sobre la immigracion parte porque tiene que ver con mi historia asi nace la pelicula era un tema que me interesaba para que se cuente e cenare una parte de mi vida con la tua storia la tua storia la tua storia la tua storia in questo paese lo che è solo era tenia que ver con... una storia di immigracion e ora sei felice 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 Grazie a tutti.